Salve a tutti ragazzi e bentornati sul canale. Come promesso, guardate cosa vi ho apportato. Oggi andiamo a spacchettare questi pacchetti della Dream League, sperando, sperando, di trovare qualcosa di buono. Magari una carta tag team con gli allenatori annessi. Ragazzi, come sempre, prima di iniziare, lasciate un bel pollicione all'insù. Iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto e soprattutto cliccate sulla campanella per attivare le notifiche. Bene ragazzi, abbiamo questi tre bei pacchettini. Andiamoli subito ad aprire. Bene ragazzi, ci siamo già armati di taglierino. Andiamo ad aprire il primo pacchetto. Iniziamo con Mimikyu. Bloom. Cleferi. Carta allenatore. C'è neanche qui abbiamo la rara ragazzi. Hanno dato dei pacchetti fallati, secondo me. Farò un reclamo. Oppure comprerò tutte e due i box. Vediamo. Qualcosa deve scappare fuori, dai. Ultime parole famose. Di nuovo Bloom. Oh, è mo'. E adesso come la mettiamo? Come la mettiamo, ragazzi? Solgaleo e Lunala GX Tag Team. Questa neanche ce l'avevo. Oh, finalmente. Finalmente, ragazzi. Terzo pacchettino. Spero di non tagliare le carte che ci stanno dentro. Ma ecco la rara, ragazzi. Questa è la rara. Empoleon. Ma che cazzo ce ne frega, dai. Guardate che abbiamo trovato. Ma che ce ne frega. Bene, ragazzi. Abbiamo trovato questa discreta bomba. Finalmente, un po' di culo. Penso, la prima negli ultimi due spacchettamenti. Abbiamo aperto sei bustine. L'unica carta degna di nota è questa. Sette richiaro di carta, ma va bene così. Ragazzi miei, se volete altri spacchettamenti di questo tipo, io sono intenzionato a comprare in box sia di Sky Legend che del Dream League. Quindi lasciatemi un commentino e fatemi sapere. Da Valeria è tutto e noi ci vediamo ad un prossimo video. Ciao, ragazzi. Ciao, ragazzi.